Ok. Allora, ricapitolando, dicevamo, il treno dei rimorchi è un argomento, è abbastanza lungo. Perché c'è questa parte qui? Perché con la patente B vedremo che potremmo trenare anche dei rimorchi senza fare ulteriori esami, se sono dei rimorchi leggeri. Quindi, mentre fino a sei anni fa, se uno voleva prendere il rimorchio, doveva rifare un esame di teoria solo per i rimorchi, adesso l'hanno conglobato nella patente B. Per cui, il giorno che io voglio prendere il rimorchio, l'esame di teoria l'ho già fatto, perché lo faccio in questo momento, dovevo solamente, eventualmente, fare un esame di guida. Per cui hanno aggiunto anche questa parte qua, che è un pochettino lunga, un pochettino noiosa, ma la dobbiamo fare perché può essere utile, ripeto, in previsione futura, perché non sappiamo mai. Magari mi compro la barca, mi compro le moto, un cavallo, devo avere la possibilità di trenarlo e quindi ho già quello che è l'abilitazione sulla teoria. Allora, intanto, per quanto riguarda i rimorchi, uno, devono avere una targa propria. La targa propria si identifica perché c'è proprio la scritta rimorchio. Quindi, come tutti i veicoli che circolano su strada, saranno immatricolati, ok? Quindi avranno una carta di circolazione, come le moto, come le auto, come gli autocarri, che hanno sempre una carta di circolazione, che abbiamo detto, la carta di identità, dove sono riportate tutte le caratteristiche, più una targa di identificazione per quanto riguarda proprio il veicolo stesso. In più, se il mio rimorchio è datato, datato cosa vuol dire? Che è stato immatricolato prima del 20 febbraio 2013. Perché il 20 febbraio 2013, cosa è successo? È stata realizzata, anche in motorizzazione a Roma, l'anagrafe dei rimorchi. Mentre prima non c'era. C'era solo l'anagrafe dei veicoli. Dal 2013, a questa data, hanno fatto anche l'anagrafe dei rimorchi, così tutti i rimorchi sono censiti. Di conseguenza, visto che prima non c'era, quando io trainavo il rimorchio, oltre a mettere la targa del rimorchio, dovevo mettere anche la targa ripetutrice dei veicoli che lo trainava. Quindi dove andare con due targhe. Dal 2013, quindi non hanno più inserito quelli vecchi, quelli vecchi non hanno inserito. Hanno iniziato a inserire dal 2013. Quindi i veicoli che sono immatricolati dopo il 20 febbraio 2013 non hanno più bisogno della targa ripetutrice. Per quanto riguarda l'assicurazione, sappiamo che il rimorchio, quando è agganciato, è coperto dall'assicurazione del nostro veicolo. Infatti, quando noi andremo a fare l'assicurazione sul nostro veicolo, se il nostro veicolo è predisposto al train, perché può capitare che magari io compro un veicolo di seconda mano. Mi scusi, potrebbe ripetere tutta questa parte che si è bloccato? No, ho capito. Potrebbe ripetere quest'ultima parte, quest'ultima slide che si è andato a fare? Ah, questa? Sì, sì, certo. Aspetta se prima mattina. Allora, dicevamo, nell'eventualità che io compro poi un'altra di seconda mano, devo fare attenzione perché eventualmente il mio veicolo potrebbe già essere omologato per il traino, quindi sulla carta di circolazione potrebbe risultare che è omologato per il traino, quindi c'ha il rilancio traino, che magari non me l'hanno detto. A questo punto, quando io vado a fare l'assicurazione, mi faranno in automatico l'assicurazione per il rimorchio, anche se io non traino niente, perché loro mi dicono, l'assicurazione mi dice, ma anche tu non traini al momento, però il tuo veicolo è predisposto al traino, quindi dovrei fare la copertura assicurativa sia del veicolo che del rimorchio, perché il rimorchio per essere assicurato deve essere assicurato quando è in movimento al veicolo che lo traina, quando è in movimento. Quando invece è sganciato, c'ha un'assicurazione a parte che si chiama di rischio statico, che può capitare eventualmente, è sganciato il mio veicolo, non è ben messo, non ho messo il freno a mano, si muove, va a portare un altro veicolo, ma un danno minimo. Infatti, diciamo, l'assicurazione, quello per rischio statico, costa pochissimo. Invece, quell'altra, è evidente che se io non mi interessasse a me avere il gancio traino, devo togliere il gancio traino dalla carta di circolazione, perché per l'assicurazione il mio veicolo è predisposto al traino. Quindi, che io aggancio o che non aggancio non mi interessa, avendo io la carta di circolazione, quindi il veicolo è predisposto al traino, mi fanno pagare anche l'assicurazione del suo rimorchio. Ok, quindi fate attenzione eventualmente, o comunque può interessare il gancio traino, sappiate magari adesso non lo uso, da un anno mi compro la barca, mi compro un carrello per portare il canno, quello che c'è. Può essere utile per qualsiasi cosa. E quindi il mio veicolo è già predisposto, pago già la circolazione e sono a posto. Quindi, durante la circolazione, i rimorchi devono essere assicurati con la stessa polizza della motrice. Quando sono staccati, devono essere dotati di polizza per la copertura del rischio statico. Quindi, praticamente, devono avere due polizze. Una che è conglobata dentro quella dell'autovettura, e l'altra invece quando sono staccati. Poi ricordiamoci, l'avremmo già visto all'inizio per chi c'era, o comunque lo ripetiamo adesso, tutti, tutti, tutti i rimorchi hanno dei limiti di velocità massimi che sono 80 km in autostrada e 70 km sulle strade esturbane. Indipendentemente che sia grande, piccolo, rimorchio per le moto, rimorchio per la barca, rimorchio per il caravan, sempre, sempre questi limiti di velocità, 80 e 70. E sono gli stessi limiti di velocità degli autotreni. Gli autotreni, che sono gli autocarri grossi, che hanno la motrice più rimorchio, hanno gli stessi limiti di velocità. Quindi non vuol dire niente che io traino la mia auto, traino solamente il carrello per le moto, che è piccolino. Devo avere massima la stessa velocità come se guidassi un autotreno, perché è un complesso di veicolo. Quindi ricordiamoci, 80 in autostrada, 70 sulle strade esturbane, sia principali che secondarie. Devo mettere questi dischi dietro, perché devo segnalare, avendo una velocità diversa, più bassa rispetto a quella degli altri veicoli, nella parte posteriore, devo mettere questi due dischi che segnalano appunto che io vado piano, perché sono limitato dal codice della strada. Poi, tutti i rimorchi hanno il cosiddetto ruotino pivotante. Il ruotino pivotante è quello che io abbasso quando sgancio il rimorchio della mia motrice, della mia auto, lo abbasso per fare in modo che non tocchi il timone per terra. E poi mi serve anche per spostarlo, perché il ruotino pivotante si chiama pivotante perché è come quelli del carriere della spesa, che spingo, tiro, lui si sposta in base alla direzione che vado. Mi serve per fare delle manovre da fermo, quindi sgancio il mio rimorchio, da fermo, posso manovrare, posso parcheggiare, e quindi devo abbassarlo, perché questo qui, quando sto viaggiando agganciato, lo devo alzare, perché è un ruotino piccolino. Non lo posso lasciare a contatto del terreno, perché si romperebbe tutto, è piccolo. Serve solamente proprio come base d'appoggio quando il rimorchio è sganciato per le manovre. Infatti c'è la possibilità di alzarlo, di abbassarlo. Bisogna ricordarsi appunto, quando io lo aggancio, di alzarlo. Poi dobbiamo fare attenzione, gli organi di traino di un veicolo, allora gli organi di traino cosa sono? Lì vedremo, beh, dopo lì, eccolo qua. Sulla via motrice abbiamo il gancio traino, ok? Il gancio traino, attenzione, deve essere omologato, quindi devo rispettare quelle che sono le caratteristiche della casa costruttrice. Perché capite che un gancio traino di una panda, non lo posso montare su, che so, un BMW, o viceversa. Questo qua è fisso il gancio traino, giusto? Eh? Questo qua è fisso, giusto? Sì, si dovrebbe togliere quella parte con il gancio. Nevesse lo so quando? Questa parte qua o si piega sotto i parauti o si toglie, perché non posso viaggiare con il gancio che spunta fuori senza rimorchio, perché potrebbe essere, causare incidenti, faccio elettromarcia, posso andare a ruotare i veicoli, o anche gli altri veicoli non mi vedono avvicinando, si potrebbero avere, subire dei danni. Quindi, il mio gancio traino, che attenzione, il gancio traino non è solo la parte che vedo, ma è tutta questa staffa qui che è collegata al mio terrario del mio veicolo. Quindi, per quello che deve essere omologato, per quello che io non posso montare un gancio traino che è stato omologato sulla Panda, su un BMW. Per cui, devo acquistare un gancio traino omologato per il mio veicolo, avere le caratteristiche e le schede tecniche di quel gancio traino. Chi lo monta non può essere un meccanico qualsiasi, ma deve essere un meccanico certificato da parte della motorizzazione. Infatti, una volta che è stato fatto l'arrestimento, quindi montato, sarà cura di chi ha fatto il montaggio, fare una scheda tecnica che ha inseguito il lavoro a riguardarti. Portare il veicolo alla motorizzazione per omologare il gancio traino. Quindi, sulla carta di circolazione risulterà appunto che il mio veicolo è munito di gancio traino. Se io volessi togliere il gancio traino perché non mi interessa, perché lo voglio vendere o cosa, devo ritornare in motorizzazione una volta che è stato tolto e rifare di nuovo l'omologazione che il mio veicolo non ha il gancio traino. Proprio perché il gancio traino comporta la sicurezza che non deve staccarsi, non deve rompersi, quindi deve garantire sotto tutti gli sforzi, quindi salite, discese, quello che sono, do se stessi che il mio rimorchio non si sganci. Ok? Allora, vediamo un attimino chi è arrivato. Veronica, ok. Allora, il gancio traino per tanto. Avrà. Chi è? Sono io ardita, posso farti una domanda, Beppe? Certo. Quindi ho capito bene che col gancio aumenta anche l'assicurazione? Sì, aumenta anche l'assicurazione perché ti metto l'assicurazione anche del rimorchio, quindi anche, se tu non hai rimorchio, però sulla carta di rassicurazione risulta che c'è il gancio traino e te la fanno pagare lo stesso. Ok, perfetto, grazie. Ok, anche perché capisci è un complesso di veicolo, non è più se agganci un veicolo solo, quindi aumenta la lunghezza, aumenta le dimensioni, quindi anche nelle manovre hai più difficoltà nelle manovre a fare, quindi loro considerano anche quelle eventuali possibilità di aumentare a causa di incidente. Quindi, dicevamo, il nostro rimorchio, il nostro gancio traino deve essere omologato, quindi ci deve essere una targhetta che specifica uno, quant'è la portata del rimorchio, attenzione, io non posso ganciare tutti i rimorchi, perché in base al mio veicolo, sulla famosa carta di circolazione che abbiamo visto, che ci sono i posti, che ci sono se benzina, se a gasolio o meno, ci sarà anche scritta una voce con scritto la massa rimorchiabile, quindi, se io ho una massa rimorchiabile di 3500 kg, posso ganciare i rimorchi di 3500 kg, ma se io ho una massa rimorchiabile, perché c'è solo una panda di 1000 kg, non potrò agganciare un rimorchio di 3500, quindi dovrò fare attenzione bene al veicolo che chiaramente che traina, che abbia una potenza sufficiente per tenere un rimorchio di dimensioni e di peso maggiore, quindi facciamo sempre attenzione, in riferimento al mio veicolo, quale rimorchio, anche per andare a contare, quale rimorchio posso agganciare, perché non è che di, ah, faccio la panda, mi aggancio il rimorchio per portare i cavalli, non so se possiamo, perché due cavalli il minimo mino sono 400 kg in uno, diciamo 800, 1000 kg tutto il rimorchio, arriviamo su una storia e arriviamo su 2000 kg, con la panda non so se riesco a trenare 2000 kg, sarà 1000, ma forse 1000 kg, quindi dobbiamo ben essere consapevoli di quello che c'è scritto sulla nostra carta di circolazione e di conseguenza avere un rimorchio adeguato a quello che io posso trenare. Infatti se voi vedete i veicoli che trainano o RU8 o comunque gli animali sono tutti veicoli grossi, sono dei SUV, è difficile vedere una panda, la panda può trainare il rimorchio, che ne so, per mettere le valigie, le borse, l'attrezzatura piccola, la rarità nel campeggio, quella roba lì, ok. Quindi, il nostro gancio train, ripeto, deve essere omologato e mi devo garantire come qui, gli organi di train e i veicoli devono consentire e garantire sufficiente oscillazioni in senso verticale tra motrice e rimorchio, soprattutto quando faccio questi dossi, che uno scende all'attossale e tutto lo sforzo si basa proprio qui sul gancio train e quindi mi deve garantire che non si stacca la mia ruota se ne vada a spasso giù per la discesa. In modo per pensare di avere sinchinazione dei veicoli dovuti a desrivelli stradali, ma anche solo i dossi artificiali potrebbe dare dei sobbazi, perché certi dossi sono veramente ripidi. Poi, per quanto riguarda prima di trenare un rimorchio opportuno accorto, scusa, accertarsi che gli impianti di illuminazione e di segnalazione siano regolarmente in funzione. Quindi, quando io, oltre ad agganciare il rimorchio attraverso quello che sono gli organi di aggancio così, ci sarà, che qui non si vede, un cavo elettrico, quindi, nella staffa qui del mio rimorchio ci sarà anche una presa elettrica dove, tramite il cavo che c'è sul rimorchio, aggancio tutte le luci, perché io, chiaramente, dato che le luci della mia motrice non si vedono, il mio rimorchio deve essere dotato anche di luci, le stesse che ho sulla motrice, quindi saranno gli stop, saranno le frecce, ci saranno le luci della target, ci saranno l'elettromarcia. Una volta che io ho agganciato il mio rimorchio dalla parte, diciamo, meccanica, quindi quello che è il gancio stesso, devo fare anche agganciamento dalla parte elettrica, in modo da garantire che quando io freno si accendono gli stop di dietro. quindi il gancio ben detto che deve essere ammovibile, non lo posso lasciare, quindi o si toglie tramite una moschettona farfalla, oppure si può piegare sotto i parametri, dipende un pochettino dal tipo di veicolo che ho. Poi il gancio traino, ecco, dato che abbiamo visto è un, diciamo, quella sicurezza è fondamentale che sia integro, se dovesse rompersi o danneggiarsi, non lo posso saldare, lo devo sostituire completamente, perché saldato magari diminuisce quello che è la sua resistenza, quindi va sempre sostituito in caso di che si fosse chiaramente danneggiato. Poi, il carico come deve essere distribuito sul mio rimorchio? Devo distribuirlo in maniera, chiaramente, il più possibile è su tutta la superficie, ma se ho un oggetto pesante che è indivisibile, ok, che quindi non lo posso dividere su tutta la superficie, lo metterò in corrispondenza del gas che è il punto di contatto con la palimentazione, non lo metto né troppo in avanti, se no vado a influire negativamente qua, neanche troppo indietro, quindi, il carico va sistemato, se è un carico con tante borse o cosa, cercherò di distribuirlo attualmente su tutta la superficie, altrimenti, se è un carico fisso, unico, ben divisibile, lo metterò sempre sulla parte dove appoggiano le ruote, quindi, per una maggiore sicurezza è consigliabile che il carico del rimorchio venga sistemato in modo che gli oggetti pesanti si trovino il più vicino possibile al suo asse. Ok, quindi, qui vedete sotto l'ombra che si vede quello che è una ruote, se voi avete già per caso utilizzato la ruote o il camper, avete fatto caso che nella parte bassa ci sono proprio gli alloggiamenti di tutte le borse, infatti, si chiamano gavoni, tutte le borse, tutta l'attrezzatura, l'attrezzatura da sub, le bombe o quant'altro, viene messo nella parte bassa, perché? Perché dobbiamo fare in modo che il baricentro, quindi il peso maggiore, rimanga in basso. Nella parte alta, quindi all'interno dove ci sono i mobili, metto i piatti, metto i bicchieri, quindi roba leggera. Perché è questo? Perché in curva, se io mantengo il baricentro basso, sbanda di meno. Se io ho il baricentro alto, ho il rischio di ribaltarmi maggiormente. Quindi anche la distribuzione dei pesi all'interno del rimorchio deve essere fatto con questo criterio qui. Le parti pesanti sempre nella parte bassa del mio veicolo. Altrimenti, ripeto, alziamo il baricentro, alzando il baricentro c'è il rischio che effettivamente incurva, soprattutto se c'è vento laterale, cosa? Subbiamo lo sbandamento. Poi, e poi come dicevamo, cercare di sistemarlo equamente su tutta la superficie. Quindi, cercare quindi di non interessare solo una parte, perché anche qui poi dall'altra parte è più leggero e quindi sarebbe disassato quello che è il peso stesso, quindi potrebbe ribaltarsi soprattutto dove c'è più peso. Quindi, cercare di non andare troppo in alto, ma metterlo abbastanza in centro se è un peso unico. Se sono tanti pesi metterlo nella parte bassa, quindi anche se abbiamo una ruota, non riempire la parte alta, ma mettere tutto nella parte bassa. Vedete anche, se fate il caso, gli autobus, i portavagli degli autobus è tutto basso. All'interno della cabina vi fanno portare una borsa piccolina, proprio perché se uno portasse dentro tutte le valigie, magari c'è gente che ha delle valigie che pesano 70 kg, e quindi sarebbe chiaramente l'autobus risulterebbe più pericoloso in curva. Mettendolo nella parte bassa diminuisce il baricentro verso il basso, quindi è più stabilita. Poi, sempre il mio peso deve essere distribuito anche qui equamente su tutta la superficie, quindi facciamo attenzione le borse che metto più o meno lo stesso peso, fare in modo di coprire tutta la superficie, sia a destra che a sinistra per evitare degli sbilanciamenti da una ruota piuttosto che dall'altra. Poi, trainando rimolti occorre verificare che il carico cravante sul gancio non ha l'assetto del veicolo e l'inclinazione dei fasci luminosi dei fari. Quindi, l'agganciamento chiaramente lo dobbiamo fare in base a quello che è rimolti io stesso. Può darsi che varie per il peso cosa, un attimino che quindi aumenta il peso sull'asse posteriore, aumentando della mia auto, l'asse anteriore tende ad alzarsi. Se si dovesse verificare, questo non è un grosso problema per quanto riguarda le luci, perché tutti i veicoli sono dotati di questo dispositivo qui che mi permette di variare l'inclinazione delle luci. Già su un'auto normale, da quando siete da soli a quando siete in 5, il fascio luminoso varia, varierà di magari una decina di centimetri o meno, però in base al peso, chiaro che se io aumento il peso dietro, il muso si alza, è come una leva qua, quindi siamo vincolati qua, aumento il peso di qua, si alza di là, ok? Quindi aumentando il peso dovrò fare attenzione per il mio fascio luminoso, tanto lo vedo di notte, se il mio fascio luminoso diventa un'antiaerea e quindi illumino gli alberi è perché dovrò regolarlo in modo che vada sempre verso il basso perché a me interessa illuminare la strada, non interessa illuminare gli uccelli. Poi, attenzione quando abbiamo la brusca frenata è che il nostro dimorfio tende ad andare in avanti con lo stesso effetto che c'è sull'autobus, quando c'è sull'autobus che l'autista frena di colpo e voi non mi tenete, se non mi tenete continuate ad andare avanti con la stessa velocità con cui state viaggiando, con cui sta viaggiando l'auto, questo per l'inerzia. Quindi, tutta la borse, bagagli o comunque tutto quello che c'è all'interno del mio rimorchio quando sto viaggiando deve essere sistemato, chiuso, in modo chiaramente che non venga proiettato in avanti in caso di brusche frenate o indietro in caso di accelerazione. Ed è per questo che quando viaggiamo è vietato stare sul rimorchio. Quando siamo in viaggio il rimorchio deve essere libero, non ci deve essere nessuno dentro per motivi di sicurezza appunto. E quindi devono essere tutti nell'autolettura. Il rimorchio lo utilizziamo quindi nel nostro lot a veicolo fermo, ok? quindi possiamo utilizzarla proprio per motivi di sicurezza perché a parte che non ci sono le cinture di sicurezza dentro il rimorchio quindi sarebbero le persone sballottate. Cosa contraria invece il camper perché il camper è tutto il veicolo che c'è anche la parte posteriore e quindi ci sono cinture di sicurezza e quindi è un veicolo dove si può stazionare anche nella parte posteriore mentre si viaggia. Questo essendo sganciato dietro non possiamo. poi potrebbe capitare che io guidi un rimorchio non solamente trasporto persone potrebbe capitare che guidi un trasporto merci ad esempio una cisterna ad esempio devo andare in cantiere dove ci sono le macchine operatrici che stanno lavorando in mezzo la strada quindi non hanno la possibilità di avere rifornimento di gasolio o cosa. Ci sono delle cisterne apposite che io viaggio lo aggancio al mio veicolo e vado a fare rifornimento alle macchine operatrici che sono sparse lungo tutto il tracciato dei lavori. Dobbiamo considerare il famoso sbattimento del mio liquido se la cisterna non è completamente vuota perché il mio liquido in curva tende a uscire quindi se la cisterna è completamente piena o comunque ha un 80% diciamo il liquido non si muove perché occupa tutta la superficie ma quando inizio a svuotare la cisterna arriviamo al 60-50% in curva diventa molto pericolosa perché praticamente il liquido tende a muoversi nella direzione che va la curva di conseguenza rischio che se vado troppo veloce si ribatta il mio rimocchio se io non ho una velocità sufficientemente lenta che mi garantisca di ridurre quello che è l'effetto dello sbattimento poi attenzione più liquido è denso e chiaramente lo sbattimento è molto più lento rispetto acqua o benzina rispetto dell'olio voglio molto più denso e quindi il movimento sarà molto più lento quando io ho finito la curva con il mio veicolo che sono già ritornato dritto questo inizia ancora a essere assù proprio per la densità quindi dobbiamo anche lì fare attenzione quando io trasporto quelle cose considerare la possibilità di ribaltamento in curva se non sono completamente pieno quindi instabilità poi anche per quanto riguarda le superficie caravan o rullot hanno una superficie molto più ampia rispetto alla nostra autolettura sono più leggeri rispetto alla nostra autolettura d'altronde se avete presente come un caravan praticamente è tutto polisterolo ok quindi il telaio è tutto in alluminio leggero leggero e qua tutto polisterolo per renderlo leggero e qua inventato per il caldo e il freddo quindi essendo leggero se ci sono delle graffiche di vento improvvise è facile che ribalti perché la superficie è decisamente maggiore quindi dovremmo fare attenzione se avvisano di fare attenzione perché le danno i notiziari per radio se ci sono delle strade ad esempio andiamo dalle parti di Trieste o cose ci sono delle situazioni dove c'è la borra che viaggia 120 km orari e c'è il rischio addirittura di chiudere una strada per i veicoli che hanno il rimorchio o i veicoli tronati anche i camion proprio per evitare perché 120 km orari una graffica di vento se sono vuoto che non sono carico mi ribalta poi allora le parti meccaniche come tutti i veicoli hanno delle parti meccaniche in movimento hanno le ruote hanno i freni hanno gli ammortizzatori hanno le sospensioni qua i ruotini quindi devono essere anche qui lubrificati tutto quello che è movimento deve essere manutenzato quindi pulito e lubrificato soprattutto quando finiscono la stagione quindi dovremmo fare attenzione ripeto l'usano attenzione che mi dirà i punti da ingrassare quindi saranno dei punti dove dovremmo mettere del grasso in modo soprattutto in caso di pioggia con un po' di maltempo visto che le ruote sono a contatto per fare lo stesso cosa il grasso faccio da schermo in protettivo e non mi usuri quelle che sono i cuscinetti o tutti gli organi quindi le parti meccaniche il movimento degli organi di traino e del rimorchio devono essere mantenute pulite ed adeguatamente lubrificate il boietto usa un'attenzione e mi dice come fare poi quando io non lo uso perché normalmente il mio rimorchio soprattutto se per la barca o la ruota o dopo le mesi estivi l'inverno è difficile che lo dopo di conseguenza cosa dobbiamo fare lo mettiamo in garage lo mettiamo ricordiamoci che il rimorchio non lo posso lasciare sganciato per la strada è vietato lasciare i rimorchi liberi per la strada quindi mettendo nel mio garage farò in modo che le ruote non tocchino per terra perché non toccano per terra perché se io lascio sei mesi il mio veicolo il mio rimorchio senza avere la cura di aumentare la pressione o comunque spostarlo la parte bassa che ha contatto con il terreno dopo un po' si appiattisce perché la pressione scende per lo stesso quindi vado poi a prendere il rimorchio dopo sei mesi qua è proprio piatto quindi mentre giro non me ne accorgo cioè me ne accorgo quando giro a me è capitato è capitato addirittura quando ero giovane forte che a volte tante cose si imparano come esperienza lasciare la moto non l'avevo lasciata sul cavalletto l'avevo messo solo sul cavalletto laterale non l'avevo più usata sono andato a prenderlo la parte proprio bassa dei pneumatici si è globalizzata e quindi quando andavo in moto sentivo quello ho dovuto cambiare i gommi quindi o ci compriamo i cavalletti e lo solleviamo quindi non tocca niente o eventualmente aumento la pressione se mettiamo la pressione normale sarebbe due bar la porto a quattro a cinque tanto non scoppiano e ho diciamo l'accortezza almeno una volta al mese di andare a spostarlo basta solo di venti centimetri che vario quello che è il punto di contatto per cui siamo tranquilli che quando lo andrò a prendere non abbiamo le ruote ovalizzate dicevamo della pressione la pressione ogni ogni veicolo c'è la sua pressione quindi non posso gonfiare i pneumatici del mio rimorchio alla stessa pressione della motrice quindi ribretto uso la manutenzione della motrice della mia auto per sapere quanto devo gonfiare le gomme ribretto uso la manutenzione del rimorchio per sapere quanto devo gonfiare le gomme del rimorchio anche perché sono gomme completamente differenti non sono la stessa pneumatico poi lo dicevamo prima per quanto riguarda la sagona del mio veicolo il rimorchio normalmente è più largo di quello che è la mia autolettura di conseguenza gli specchietti normali che sono questi qui a volte non mi bastano perché lo specchietto normale mi riflette il sedere del mio rimorchio e io non vedo niente per cui abbiamo la necessità di comprare degli specchietti aggiuntivi che metto di fianco le mie specchiette normali in modo da vedere anche il rimorchio però attenzione non posso mettere qualsiasi specchietto perché la sagoma che vado ad aggiungere sul mio specchietto non deve superare i 20 centimetri di quello che è la parte più esterna del rimorchio quindi 20 centimetri calcolerò diciamo tirando una linea retta di fianco al mio rimorchio arrivando allo specchietto massimo posso sporgere 20 centimetri per parte chiaramente quindi 20 di qua e 20 di qua con gli specchietti insomma quindi i compressi veicolari specchi montati sulla motrice non devono sporgere oltre 20 centimetri della sagoma del veicolo motrice o rimorchio con riferimento al punto di maggior larghezza poi lo spunto ripreso è più lento quando si stanno in un rimorchio e beh questo qui è facile immaginare anche quando io vado con uno zaino sulle spalle devo fare una corsa faccio più fatica rispetto a quando sono senza è sempre qualcosa che mi trasfino dietro anche se questo è su ruote comunque sarà 500 kg sarà 1000 kg a parità di velocità impiego più tempo per la velocità ok quindi dobbiamo considerare di conseguenza che lo comporta dei consumi maggiori dell'usura maggiore per quanto riguarda i freni stessi perché quando freno chiaramente questo mi spinge quindi avere un rimorchio agganciato dobbiamo avere un veicolo con una buona potenza perché non debbo sopperire su quello che è il peso stesso che mi porto dietro in salita poi il pericolo qual è? che aumenti eccessivamente la temperatura soprattutto l'estate giorni come come adesso che fa caldo in salita già il motore fa fatica ancora se è un rimorchio agganciato c'è il ritro effettivamente che il motore subisca una temperatura maggiore quindi dobbiamo fare attenzione alla spia che non si accenda la spia se si dovesse accendere dobbiamo fermarci lasciare riposare un attimino il motore perché in effetti rischiamo di andare in ebollizione quindi dobbiamo raffreddarlo in discesa cosa comporta? in discesa questo spinge ok quindi è come se io avessi uno dietro che mi spinge e quindi dobbiamo frenare di più mantenere una distanza di sicurezza maggiore rispetto ai veicoli che abbiamo in effetti sarà poco ripeto sarà 500 kg sarà 1000 kg che comunque mi spingono e di conseguenza una maggior usura per quanto riguarda anche i freni del mio veicolo ok scusate un attimo per qui ok quindi mi da un rimorchio ripeto è per quello che comporta bisogna fare anche poi delle prove non perché ho preso la patente e posso lanciare qualunque cosa prima di lanciare qualunque cosa un minimo di prove bisogna fare altro problema del mio rimorchio in curva non mantiene la stessa angolo della motrice ok tende a chiudere quindi l'angolo che la rotazione che fa il rimorchio rispetto alla motrice più stretta quindi devo fare attenzione soprattutto se sono nei centri urbani che io debba girare ricordiamo che dietro ho 4 o 5 metri perché se io faccio la curva in maniera normale come se non avessi niente questo qui finisce sul marciapiede valutare i veicoli che sono parcheggiati ok quindi avere anche qui l'accortezza di cazzo c'è un rimorchio di etto facciamo attenzione lo stesso anche nelle curve più ampie quindi anche nelle curve in montagna o cosa ricordarmi che devo mantenermi un pochettino più distanziato rispetto quando sono senza motrice senza rimorchio infatti quello che dicevo se io stringo non mi faccio la mia curva normale il mio rimorchio va sul marciapiede quindi o sul marciapiede e quindi c'è il rischio di prendere persone o se ci sono le autoparcheggiate mi faccio tutte le autoparcheggiate poi aumento lo spazio di frenatura abbiamo detto perché abbiamo detto il nostro rimorchio ci spinge quindi se normalmente a 50 km orari ho bisogno di 15 metri a 50 km orari magari ho bisogno di 18 17 ok perché questo mi spinge poi ricordiamoci per quanto riguarda il tranne del rimorchio sull'autostrada non posso ok non posso come dice qua né autostrade a tre o più corsie ai conducenti di compresso di veicoli di lunghezza totale superiore a 7 metri è vietato impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro la carreggiata quindi posso viaggiare solo nella prima e nella seconda corsia non posso occupare la terza corsia se io il mio compresso di veicoli è più lungo di 7 metri quindi prima e seconda questo perché proprio perché in autostrada io ho una velocità limitata se vi ricordate abbiamo detto velocità massima 80 km nella terza corsia di solito non possono viaggiare i veicoli che hanno una velocità inferiore a 90 quindi se la mia velocità è 80 è chiaro che non posso viaggiare di là di conseguenza onde diciamo hanno stabilito oltre a quella che è la velocità anche la lunghezza massima per cui io posso utilizzare la terza corsia quindi attenzione anche alla lunghezza ricordate ecco ricordate questo perché qua ci sono delle domande su questo anche 7 metri 15 poi il nostro rimorchio tutti i rimorchi hanno il freno inerzia cosa vuol dire il freno inerzia allora il freno inerzia perché chiaramente il mio veicolo abbiamo detto tende a spingermi però deve avere la possibilità di frenare perché non posso basare la frenata in discesa solamente con i freni dell'auto anche anche il mio rimorchio deve essere avere un pianto frenante l'impianto frenante rimorchio sfrutta l'inerzia proprio del veicolo in avanti quindi quando io freno con la motrice all'interno di quello che è il timone questo è il timone del mio rimorchio qui c'ho la mia carotta della mia motrice qua c'è tutto il timone dove io galcio qua c'è il freno di stazionamento del rimorchio quindi quando il mio rimorchio viene in avanti per inerzia lo stesso discorso che abbiamo detto quando io sono sull'autobus non mi tengo vengo catapultato in avanti lo stesso discorso il rimorchio viene in avanti automaticamente venendo in avanti agisce questo stantufo collegato con la rivetta del freno in mano e mi frena il rimorchio in modo da non avere io la spinta ce l'avevo solamente all'inizio quando parto con la discesa ma poi anche lui risulterà frenato proprio da questo effetto diciamo freno in inerzia perché venendo in avanti quando io freno lui si sposta in avanti e tramite questo pistone con questa leva qui collegata al freno di stazionamento mi frena sulle ruote dietro del rimorchio quindi la frenatura del rimorchio dotato di freno in inerzia non avviene simultaneamente a quello della motrice in quanto il azionamento sia solo dopo che il rimorchio ha esercitato una spinta sulla matrice ok quindi arriverà un secondo in ritardo quindi quando io inizio a frenare il mio rimorchio sta ancora venendo in avanti poi dopo un secondo che ha sfruttato queste inerze qui inizierà a sfruttare a frenare anche lui quindi nel rimorchio è presente un dispositivo di emergenza che in caso di sganciamento occidentale aziona praticamente il freno di stazionamento questo cavo qui è un cavo d'acciaio quando io inserisco il timone il mio rimorchio sul gancio della mia auto prima di mettere proprio tutto il timone vedete questa è la sfera del gancio del mio rimorchio e questa è la calotta del rimorchio ok prima di mettere la calotta sulla sfera devo inserire questo cavo d'acciaio è un cappio in modo che nell'eventualità che poi non aggancio bene o succede qualche cosa che si sgancia il mio rimorchio magari se mi inserita non si va a spasso per il suo fronte perché c'è questo cavo d'acciaio che è vincolato con la leva del freno vedete la leva del freno è sempre la stessa quindi va in tensione questo e mi frena il mio rimorchio e soprattutto essendo un cavo d'acciaio non si rompe è abbastanza resistente quindi si sgancerà il rimorchio però non lo perdo e sfrenina subito quindi l'importante è ricordarsi di agganciare questo beh se non lo aggancio sono senza freno di sicurezza poi ecco qui questo ritorniamo un attimino su quello che dicevo prima che non posso agganciare tutti i rimorchi in base al veicolo quindi abbiamo detto non posso agganciare ad esempio un rimorchio che pesa 1500 kg su una panda quindi devo considerare quello che è il rapporto di traino quindi se si tratta di un rimorchio privo di qualsiasi tipo di sistema di frenatura il rapporto di traino tra motrice e rimorchio deve essere 0,5 quindi ci sono dei rimorchi che sono piccolini ma sono più quali di appendice comunque che non hanno i freni non hanno più nessun freno a questo punto lo posso agganciare sì però attenzione nell'eventualità che non abbia freni il rapporto di traino è 0,5 cosa vuol dire che se il mio veicolo pesa 1400 kg il rimorchio al massimo deve pesare 700 se invece il rapporto di traino il mio rimorchio è dotato di freno inerzia come quello che abbiamo visto abbiamo da considerare il rapporto di traino 1 a 1 cioè parità quindi se la mia motrice pesa 1750 kg il mio rimorchio può arrivare anche a 1750 kg perché in questo caso è dotato di freni quindi il rapporto di traino entro il limite di quello tecnicamente ammesso per il veicolo non deve superare il valore di 1 nel caso di rimorchi muniti di freno e di servizio e di massa fino a 3500 km allora io mi devo fermare qua ve l'avevo detto che purtroppo il discorso dei rimorchi è abbastanza lungo ora ditemi voi se avete piacere questa sera che vado avanti e terminiamo tutto il capitolo dei rimorchi o se preferite che stasera ripeto questa parte qui e domani terminiamo tutto il capitolo ditemi voi come volete per me andrebbe benissimo terminare oggi io stasera non riesco a partecipare a quei bambini io ci sono non lo so anch'io io ci sarei quindi ditemi voi io mi baso su quello che volete voi io ci sono Beppe se in tal caso non c'è ardita Beppe se in tal caso non c'è ardita possiamo registrare in modo che lei lo recupera sì certo assolutamente sì ricordate che magari poi poi eventualmente ardita se poi hai qualche problemi me lo dici te li vediamo assieme eventualmente ok ok va bene Beppe perché io purtroppo la sera avendo i bambini mi viene difficile beh no no ti capisco ma almeno sai effettivamente almeno finiamo questo discorso che ci troviamo sul discorso di modo che ve l'avevo detto subito all'inizio è un discorso abbastanza lungo che sapevo che non avremmo avuto il tempo di segno tutto vedete che sono abbastanza nozioni tecniche che bisogna chi non l'ha mai vista è chiaro che non le sa e quindi le deve memorizzare per cui allora ci vediamo sempre alle 18 e terminiamo il discorso del rimorchio e comunque ripeto verrà registrata tutta la lezione ok va benissimo grazie mille ciao ciao a tutti buon pomeriggio a tutti ciao buon pomeriggio ciao 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 Grazie.